Un uomo di 50 anni, Salvatore Condina, è stato ucciso a Bagnara Calabra. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nei pressi della sua abitazione nella frazione Pellegrina, nel complesso delle ex palazzine popolari ed in passato era già stato vittima di un episodio di gambizzazione. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, il 50enne sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di fucile. Condina, secondo quanto riferito dalla questura di Reggio Calabria, era già conosciuto alle forze dell'ordine per pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Le indagini sull'omicidio vengono condotte dal commissariato di Villa San Giovanni e dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Condina e la rete di frequentazioni della vittima, nel tentativo di raccogliere qualche utile indizio che possa consentire di risalire agli autori del delitto. Riguardo il movente, al momento non si esclude alcune ipotesi.